Sarà fruibile al pubblico dal 17 al 30 settembre nella corte di palazzo Mazzolari Mosca il planetario Argo, un'attenso struttura mobile itinerante all'interno della quale sarà possibile godere di uno spettacolo immersivo tra le meraviglie dei parchi San Bartolo e del Conero. Il progetto, ideato dal Museo del Bali e finanziato attraverso il Fondo Europeo FESR 2014-2020, arriva in città per la sua prima uscita ufficiale grazie alla collaborazione con il Comune di Pesero e al patrocinio del Parco San Bartolo. La cupola, con un diametro di 7 metri e che avvolgerà il pubblico a 360 gradi, permetterà agli spettatori di godere di un viaggio virtuale che dai fondali marini si sposterà poi in tutto il territorio circostante fino alla volta celeste. Chiaramente molti di voi conoscono il Museo del Bali che ha la possibilità, diciamo, attraverso le postazioni interattive di divulgare la cultura scientifica al territorio, alle famiglie e agli studenti. Oltre alle postazioni scientifiche il Museo del Bali ha l'osservatorio con cui si possono mirare, diciamo, i corpi celesti. Ma una delle caratteristiche principali e molto apprezzate è il planetario del Museo del Bali e per questo si è voluto pensare di poterlo rendere itinerante attraverso un progetto che con un bando regionale ci ha permesso di ottenere dei fondi europei e acquistare le attrezzature per poter, come dire, andare sulla costa e divulgare la cultura scientifica anche in modo itinerante. Diciamo rispetto a quello che è la caratteristica del planetario del Museo che tendenzialmente è legato ai corpi celesti, proprio perché la tradizione è quella di un planetario astronomico. Il planetario itinerante invece, oltre a una parte, diciamo, simile a quella del Museo, ha invece altri contenuti legati principalmente alla costa, quindi al Monte San Bartolo e anche al Parco del Conero. Siamo molto lieti di questa opportunità, di questa collaborazione che è una realtà importantissima a livello nazionale come il Museo del Bali, ha deciso di mettere a disposizione tutto il territorio marchigiano con un tour che inizia in questi giorni e che parte appunto da Pesaro. La cosa ci fa molto piacere in questa connessione nell'area di Palazzo Mazzolari, quindi diciamo, il palazzo gemello tra virgolette dei musei civici. Un'opportunità per i cittadini, innanzitutto per le scuole che iniziano e anche per i turisti che sono ancora in città, per conoscere più da vicino una realtà appunto importantissima come il Museo del Bali, con un progetto di un globo itinerante che con dei contenuti video ad altissimo impatto ci porteranno un tema sotto il nome di Argo molto importante, passando tra due grandi parchi, il Parco del San Bartolo e il Parco del Conero, in un'osservazione di quelli che sono i temi ambientali legati alla costa e ai fondali marini. Quindi pensiamo che appunto a pochi metri anche dell'opportunità della sonosfera, che in maniera più globale racconta il tema in questo momento del riscaldamento globale, dei rischi connessi e anche della conservazione degli habitat, delle specie via di estinzione, possa essere un pacchetto probabilmente unico in Italia in questo momento dal punto di vista dell'interesse, dell'innovazione tecnologica e anche diciamo della credibilità degli enti che lo propongono. Sarà possibile accedere al Planetario Argo tutti i giorni dalle 15.30 alle 19.30. Obbligatoria la prenotazione, che si potrà effettuare sul sito www.museodelbali.it. Sempre online allo stesso indirizzo, sarà possibile acquistare i biglietti che consentiranno l'ingresso gratuito al circuito Pesaro Musei oppure alla sonosfera.